Salve cari Youtubers, quello che vi presento oggi è un minigames che è una specie di mod per spelunchi, di spelunchi, questo si chiama Taste Like Spelunchi. Il livello è uguale, però il protagonista oggi è una pianta carnevora invece di essere l'avventuriero della volta scorsa. Quindi faremo tre run o una un po' più lunga o tre run. Vedete, Taste Like Spelunchi. Salto con Z, X attacco. 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 Il concetto di gioco è come Spelunky, però il gioco è molto particolare per il protagonista. Cazzo, questo è grosso. Ma lì c'è la trappola. Cazzo, questo è grosso. Cazzo, questo è grosso. Cazzo. Non ho trovato l'uscita del terzo. Cazzo, vabbè, riproviamo la seconda parte. No, ho sbagliato. Ah, non ho saltato velocemente. Ah, ci riprovo. Qua è troppo bello usare questo protagonista strano. No. 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 ma salvo quella lì a Cazzo, mi sono fatto money. Cazzo. Niente, va bene, facciamo... E questo era Taste Like Spelunky, il link è in descrizione per trovarlo. E' una specie di, diciamo, mod per il gioco, proprio spelunky. Qui, patologista, è questa pianta carnivora, quindi dal canal per minigames. Per oggi è tutto. Dopo questa scena. Alla prossima. Ciao.